Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale Finalmente sono riuscito a entrare in Arena 5 ragazzi E senza scioppare e gemmare Però effettivamente non ho ancora le carte per riuscire a reggere i Arena 5 Quindi la battaglia che andrò a fare oggi probabilmente potrebbe essere persa istante ragazzi Comunque andrò a fare questo opening chest sperando che mi esca qualcosa dai bauli e omaggio dell'Arena 5 E spero anche di riuscire a vincere almeno una partita su Arena 5 così prendiamo una cassa Quindi vai andiamo ad aprire Allora bauli e omaggio Vediamo un po' cosa ci esse Soldini Gemmini che fanno sempre comodo Scheletrini che non ce ne frega una mazza Palla di fuoco che non ci interessa quindi nulla di nuovo Bauli e omaggio Gold Tesla al 2 che non è male Arciere al 5 E niente ammazza che schifo Andiamo ad aprire quelli Arena 4 A sto punto Argenti e Arena 4 Vediamo un po' che ci esce Frecce Niente oh Mamma mia Oro Cavaliere 5 che non utilizziamo Torre del Bombardiere Nulla Allora mi metto ad aprire questa gold così la leviamo dalle scatole E io direi di andare a fare una bella battaglina Arena 5 A vedere se riesco a reggere ma penso proprio di no ragazzi Proviamo Valle degli incantesimi Arena 5 Contoro Masciato Ok andiamo a vedere che riusciamo a combinare Mi paro subito in difesa Non riesco mai a mettere sto coso centrale È una cosa da panico eh Aspettiamo che ricarichiamo il nostro bellissimo Mana Che poi lo chiamo Mana ma non è Mana Perché se no voi vi arrabbiate Vi arrabbiate Ok allora allora Lui è un 1.424 Parte così Dividendo due barbari dal lato e due barbari dall'altro Interessante scelta Allora Giustamente in questo caso lui ha avuto tutto il tempo E questi li fermo Perché tanto quello muore Gli atirerà in colpetta la torre in parte come pensavo Allora provo a rasciare da questo lato Eh non gliela faccio però Oh sì Andiamo un po' Oh polizia Sbam Eh però il paladino non riesce ad arrivarci Sì ci arriva il prince Ok Un po' di colpetti sulla torre a sinistra Dai che c'è sta tutto C'ha il mago Allora il mago lo facciamo arrivare alla torre Gliela facciamo attaccare E poi la ammazziamo alle spalle De cattiveria proprio Ok Ammazziamolo vai Così cattivi cattivi Sbam E adesso abbiamo la possibilità di rasciare a sinistra Perfetto Pulisci così tanto io c'ho Bum Na na Vai vai Ok Torre a sinistra Gliela buttiamo giro i cattivi Cattiveria Sbam Ultimo colpo Mamma mia Ok adesso dobbiamo difenderci malamente La possiamo anche mantenere così sinceramente A me va bene anche una torre È già tantissimo ragazzi Vediamo un po' Aspettiamo la sua azione Perfetto Ha deciso di volerci fermare in questa maniera Ok Vuole ammazzare la tesla Quello glielo leviamo Evochiamo questi Evochiamo questi Perfetto Anche se tira le frecce non è un problema Abbiamo difeso Non ci ha toccato Mancano 60 secondi Raga Ha tirato il mago Perfetto Perfetto Possiamo difenderci tranquillamente Aspettiamo Aspettiamo Scialli scialli Proprio vai Scianti scianti Ok Voi fatelo fuori Tu para lì Tu ammazzare il mago Arca zozza Stai qua Troppa roba Non so se gliela faccio eh Ok io ho tirato le frecce Lui ancora non me le ha tirate Quindi ancora si può difendere Infatti lo può fare Ok Ho ammazzato il mago Perfetto Posso difendermi Ce la faccio Ce la posso fare Ah Ok Ammazza il mago Sul mago Sul mago Sul mago Perfetto Perfetto Vai distraiamolo E' vinta E' vinta E' vinta raga Two One E così prendiamo La prima chest Arena 5 ragazzi GG Vediamo un po' che c'esce Baule d'oro Arena 5 E questa è GG Ok Ne faccio un'altra A sto punto Vai 1445 ragazzi Evil unicorn rober Maledetto Che fai? Ah no L'ha messi davanti E' brutta situazione Ok Facciamo così Tranquillo Tranquillo Tu tira quello Io intanto Attacco dai cattivi No maledetto Sei un maledetto Eh Ma Ok Io vado di là Col prince Vediamo un po' se riesci A fermarmelo No Non puoi Perché hai consumato Tutto qui a sinistra Ah no no Qualcosa hai potuto fare Bravo bravo Io quello te lo rallento E questi ti faccio fuori Perché non mi devi toccare Le torri Assolutamente Oh 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 No quelli toccano No non toccano Sì uno tocca Maledetti scheletrini Allora Vediamo un po' Centrale Oh ce l'ho fatta Ok Momento di stallo ragazzi Vediamo un po' cosa si inventa Al tit Copione di merda Ok Allora Se vado a tira Eh no Stavolta no eh No me l'ha tirata dietro Sei lezzissimo Cazzarola Ma proprio Bastardo Dentro Ok Barbari Qui sulla sinistra Sì sulla destra Scusate Sì vabbè Qualche altra difesa Ce la vogliamo mette No giusto per Giusto perché mancavano Ok E no Non lo piglia la torre Guardate Non prende la torre Dai Che sfiga però eh Questa è sfiga totale Vai Direi in colpetto Oh E se n'è andata quella torre Maledetta Io direi di fare una rasciata A destra Col domatore Ok Sì metti quelli per difendere Non è un problema Tanti due colpetti Ti tiralo Ce l'hai pure tu Bastardo Non l'aveva mai giocato Fino adesso È perché sapeva Che era meglio attendere Adesso lui mi tira Ci sbatto le bolze No non l'ha tirato Ok Cerco di andare a rush Di qua Anche se ci credo poco Oh frecce Bene Bene Totalmente difeso Eh no però Quello ce lo fa E dai però Quanta roba vuoi tirarmi Ok Quello ci muore E io cerco di rush Da questo lato C'ho una torre a 40 Raga Una cazzarola Di torre a 40 No appena me la tocca Con una freccia Vinto E niente Riesce a pararsi In qualsiasi modo E sempre con quella Cavolo te cosa De scheletrini Eh no Questo non lo batto Raga Ha tirato di là Giusta Idea A mio parere Ha vinto Ha vinto Vintissimo Ecco qua Niente Non ho potuto Fa nulla Però non gli faccio Fa due coppe Sti cavoli proprio Ok Perfetto Dai Una vinta E una persa Però ho perso 30 Mannaggia la miseria Vabbè sono ancora 1421 Ancora arena 5 Quindi non mi ha toccato Ragazzi più di tanto Allora io direi Adesso prova a vedere Qualcuno vuole fare amica Stiamo in online In 3 in questo momento Quindi penso che non ci saranno tutti Vediamo un po' Chi vuole fare amichevole Va bene ragazzi A quest'ora Non ho trovato nessuno Sto registrando nel pomeriggio E non c'è nessuno Alle 4 ragazzi Stanno in 3 online oggi Quindi assurdo Va bene dai Abbiamo fatto due partite Una vinta E una persa In arena 5 Abbiamo aperto un po' Di chest Speriamo che esca qualcosa di buono Dalla chest arena 5 Perché così possiamo salire Ancora di più E niente ragazzi Lasciate tanti pollicioni Condividete il video Iscrivetevi anche se siete nuovi E ci vediamo alla prossima puntata Di Clash Royale E ci vediamo alla prossima puntata E ci vediamo alla prossima puntata Ciao